Nino, ma come mai? Perché hai scelto, hai avuto il desiderio di aprire questo blog e raccontare un po' alle persone tutta la vicenda che ti riguarda? Innanzitutto per una questione personale perché, come saprai, io sarei nel personaggio della fiction, libri, film, il ricotta. Quella ricotta mi pare una cosa una sciacquavalletta, no? Siccome io non mi considero tale e allora ho deciso di mettere la verità anche perché io in questi anni non faccio che incontrare scolarischi, cose, universitari, gente che mi viene a trovare perché vuole conoscermi personalmente e tutti quanti mi pongono domande in riferimento al film e romanzo criminale, la fascia tagliata mia, tu vedi se c'è la fascia tagliata, io ce l'ho, i miei piagnucolamenti, i miei modi, no? La pallotto, la bufala, la pallotto sulla ginocchia mentre ce l'ho vicino al cuore, il bufalo, il scrocchia a zeppi, tutta gente che rappresenta De Catardo, non me. Allora siccome me l'ho stancato a ripetere a centinaia di persone continuamente, no, guarda che libanese, non ha libanizzato niente, me l'ho stufato, allora mi sono detto, una volta e per tutti, apro una pagina, perché io ho anche Facebook, ma lì succedeva la stessa cosa, chiunque entrava come amicizia, ma è vero questo, è vero quell'altro, e io devo stare a spiegare perché sono una persona che mi ritengo in dovere di dare risposte, ma siccome ero una risposta del primo e mi ero stufato, allora ho deciso di aprire questo blog, in modo che chiunque voglia fare una domanda, io lo rimando all'articolo che ho fatto o all'immagine che vengono poste, e quindi, ma calmeranno penso, no? Ce lo vediamo un po' insieme? Certo, come no, come no, come no. Anzi, mi sarebbe piacere il tuo giudizio.